Inizio il campionato che provo, riprovo, riprovo, la scorsa settimana ho provato due o tre volte davanti la porta, sono stato sfortunato, ho sfruttato il mio punto forte, sono riuscito a fare gol. Comunque è importante, perché sono l'ottima tradizione di Minklery, tu essendo il 9 eri salito in area di rigore, un difensore si difendeva sempre da attaccare. Sì, sì, no, a me piace molto andare su, campionare di testa, lì era un momento in cui dovevano difendere, però come sono da zero non era facile mantenere i risultati, quindi sono andato, non ci ho pensato due volte. Come sta procedendo la maturazione caratteriale della squadra? Prima Rieti in 10, adesso Città di Castello in 9, sono vittorie che fanno morale? Sì, fanno molto morale, si vede che siamo uniti, siamo sempre più uniti, partita dopo partita, oggi in 9, siamo riusciti a difendere il risultato, una cosa buonissima per il morale della squadra. Ottima prestazione della ripresa in 9 contro 10, ma si poteva fare qualcosa di più nel primo tempo quando arrivavamo 11 contro 1? Qualcosa di più si poteva fare, però la partita è andata così, non puoi mai decidere come va la partita, quindi è andata bene così, mi ha portato i tre punti a caso, quello è importante, poi si vedrà come migliorare. Ti aspettavi di giocare in così tanta costanza? Sì, forse sì e no, non lo so, non mi aspettavo niente, sono venuto qua per lottare, per il posto e ora ci sono, ho fatto go, sono contento, andiamo avanti così. Grazie. Grazie.